Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video del canale Il Signor Rosso Nero, bentornati sul canale. Vi ricordo di mettere mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale e oggi parliamo di come appunto il Milan arriva al giorno del raduno, quindi domani. Ragazzi è stato un periodo particolarmente intenso per il Milan, in generale parlo, è stato un periodo di grossi cambiamenti dove molti si sono arrabbiati, compreso me, tra il cambio di società, la vendita di Tonali, insomma è stato un durissimo colpo in generale. Però bisogna guardare avanti, i calciatori, gli allenatori, le società vanno, il Milan resta e quindi bisogna pensare al presente e al futuro prossimo. Siamo quindi domani, al giorno del raduno, al fatto che ricomincia una nuova stagione e sono arrivati già dei nuovi calciatori come Loftucic, Pulisic, Romero, Sportiello, quindi è una squadra che comunque sta cambiando pelle. È un cantiere aperto, in questo momento il Milan e sicuramente Pioli ha tanto su cui lavorare, è un dato oggettivo questo. Il Milan cambierà tanto a centrocampo perché comunque nonostante l'arrivo di Loftucic e Pulisic si parla tanto di Reinders come sostituto di Ben Nasser, visto che lo perderemo per tanti mesi a causa dell'infortunio al ginocchio. Poi ci sarà anche la Coppa d'Africa, quindi dobbiamo tutelarci e Reinders è uno dei tanti nomi che si sono fatti. Anche se per chi mi segue su Instagram lo sa che in questo momento io sono abbastanza scontento dei nomi che si fanno, perché io aspetto un solo nome a centrocampo che è Sergei Milinkovic Savic, che purtroppo in questo momento a quanto pare la Juventus ci sta provando sul serio sul calciatore, sta provando a convincere all'Otito di comprare il calciatore più qualche contropartita tecnica, si parla di Pellegrini, si parla di Rovella, quindi la Juventus in questo momento è forte sul giocatore e a quanto pare anche il calciatore gradisce la destinazione giuventina e quindi purtroppo, purtroppo in questo momento questo calciatore che potrebbe cambiare totalmente il nostro centrocampo, ma totalmente è lontano da vestire la nostra maglia. Io comunque aspetterò, finché non ci sarà l'ufficialità di un suo rinnovo che se ne va via, io aspetterò con ansia una possibile notizia del Milan che è sul giocatore. Io ho sentito tante fonti, anche sul web c'è gente che dice che Pioli sta chiedendo continuamente alla società di provarci, di prendere questo calciatore, altri dicono invece che la società già si è defilata, non lo so, non lo so. In questo momento sicuramente è un mercato in forte fermento, non solo a centrocampo ma anche in avanti, a quanto pare anche in uscita il Milan si sta muovendo tantissimo, oltre alle tipiche cessioni dei giovani come ad esempio Brescianini, a quanto pare il Milan sta lavorando anche alla cessione di Messias che piace al Bologna e anche al Torino, il Torino che chiede anche di Pobega ma per questioni di liste e anche secondo me comunque di priorità il Milan non può permettersi anche di vendere quest'altro giocatore perché sennò veramente si fa una rivoluzione pazzesca e le rivoluzioni non portano mai a cose positive, non portano mai a risultati positivi nell'immediato, quindi cerchiamo di ragionare bene, di fare un mercato ragionevolmente di rinforzo, quindi che non si vada a spendere troppo, ma allo stesso tempo che non si perdano troppe pedine perché comunque Pioli si potrebbe ritrovare anche una rosa completamente nuova e poi lì è difficile anche per l'allenatore migliore al mondo mettere insieme un gruppo coeso, compatto sin dall'inizio e si sa che in Serie A se non parti forte la corsa per i posti importanti in classifica e in campionato sono sempre più complicati. Detto questo ragazzi domani ci sarà il raduno, vedremo un po' che clima ci sarà, ma secondo me ci sarà grande entusiasmo e curiosità. Io aspetto nei prossimi giorni nuovi arrivi, nuovi acquisti, spero che il Milan riesca a cedere qualcuno, non dei titolarissimi, ma magari qualche scarto come ad esempio Rebic o Messias o Righi, vediamo un po' il mercato comunque in forte fermento, il Milan è attivo, però insomma dobbiamo anche un po' svegliarci su queste trattative perché si sta anche oggettivamente si sta mettendo troppo a comprare i calciatori. Quindi ditemi la vostra ragazzi nei commenti, commentate, condividete il più possibile, forza Milan sempre e avanti, guardiamo oltre, guardiamo al presente e al futuro.